Lei che prende il treno spesso per Torino e da Torino per Pinerolo, cosa sta succedendo? Tutti i giorni spontaneamente in ritardo. O saltano le cose? Le rilviano, le cancellano, tutti i giorni. E poi ti fanno pagare uno sproposito e non parliamo di cose che sono sul treno. E' schifo, gente che grida, che minacciano, che spacciano, fumano sul treno, cos'è? E' assurdo, è assurdo. Quindi non è un servizio, è un disservizio. Ma uno che deve fare un viaggio, che deve prendere delle coincidenze, non si può fidare dell'orario del treno allora? Assolutamente no, assolutamente no. Guarda adesso, stamattina, il Fulman dovrebbe aspettare il treno per la coincidenza per Torre Pellici, perché la linea è Torino-Torre Pellici. Arrivo qua e c'è dove il treno non si può aspettare. Questo è quanto.